Sono diversi premi che ha ricevuto il Laboratorio Arca di Ospedaletto, l'ultimo in termini in ordine di tempo, il premio assegnato dalla Camera di Commercio. Al centro il tema dell'innovazione, ma non solo per l'ultimo premio. Antonio Cecchi è il titolare. Qual è la caratteristica innovativa, la capacità innovativa che manifestate tutti i giorni? Il Laboratorio Arca è una società che vive di innovazione perché rientra nel DNA dell'azienda. Quindi facciamo innovazione a 360 gradi, soprattutto nel settore chimico e tecnologico, grazie anche a finanziamenti comunitari e ministeriali e regionali. L'ultimo premio che abbiamo vinto, il premio innovazione della Camera di Commercio 2018, è un premio per l'innovazione, ma non è solo l'ultimo. Spero che non sia l'ultimo. L'anno scorso abbiamo vinto il premio innovazione della Regione Toscana, nel 2014 abbiamo vinto il premio dei premi del Consiglio dei Ministri. E quindi periodicamente partecipiamo a queste manifestazioni perché è già importante partecipare. Perché già partecipare vuol dire avere qualcosa da dire, qualcosa da presentare, qualcosa di valido. Se poi veniamo premiati ovviamente siamo molto più contenti. Il progetto con il quale vi siete presentati, il prodotto? Diciamo che non è stato un prodotto specifico perché quando è nato il bando ho riunito i collaboratori per decidere con quale iniziativa potevamo partecipare. Ma noi viviamo di innovazione, quindi abbiamo veramente un ventaglio di innovazioni veramente notevole. Per cui potevamo partecipare con un prodotto conciante, metal free, per rendere le pelli più ecosostenibili. Potevamo partecipare con un prodotto impermeabilizzante a base acquosa, quindi anche questo ecosostenibile. Potevamo partecipare con tante altre iniziative. Quindi abbiamo voluto partecipare con quello che in realtà fa d'accollante a tutte queste innovazioni che è la nostra piattaforma informatica, la Boranette, che abbiamo sviluppato personalmente in azienda ed è quella che ci permette di gestire a 360 gradi anche nell'ottica dell'industria 4.0 non solo l'azienda ma tutte le iniziative innovative. per conto dell'azienda ed è lì che si è aperta.